Grazie Presidente, allora mi corre l'obbligo di almeno spiegare, ma è una cosa molto semplice, chiaramente. Siamo in dichiarazione di voto, vero Presidente? Siamo in dichiarazione di voto. L'emendamento di Commissione è molto semplice appunto, comprende un reintegro del fondo di riserva relativamente alle spese relative alle consultazioni elettorali comunali per 1.290.000 euro errotti, degli storni di spesa necessari per quanto riguarda il Municipio Quinto e poi anche grazie alla sollecitazione del Consigliere Corsetti in base anche alle richieste del secondo Municipio è stato inserito sempre con carattere di urgenza, quindi in base all'articolo 38 del Tuel,5, i fondi necessari quasi di 400.000 euro per la riqualificazione messa in funzione del centro sportivo e sistemazione del parcheggio di via Como, che come sappiamo è un impianto che è stato oggetto di diverse commissioni sport principalmente e che si è ritenuto buono, quindi la bontà della richiesta per cui rientrando nei caratteri di urgenza e rientrando anche nei caratteri di funzionalità e quindi anche della tutela, del bene dei cittadini appunto della rimessa a posto di un impianto sportivo che ne aveva necessità presentiamo appunto questo emendamento di commissione condiviso fra tutti i commissari presenti qualche seduta fa appunto in commissione bilancio. Grazie.